La scienza delle radiocommunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Area 051 Imma e Elena raccontano i luoghi nascosti di Bologna. Ben ritrovati ad Area 051. Abbiamo deciso di aprire questa puntata con la voce di Guglielmo Marconi, uno dei bolognesi più famosi al mondo. È grazie a lui che oggi possiamo inviare un sms o guardare la tv. Molti sono rimasti affascinati dalle sue invenzioni, tra questi un ragazzino che sui banchi di scuola cercava di imitarlo. Negli anni ha raccolto più di 2000 strumenti che raccontano la comunicazione moderna. È Gianni Pelagalli, l'uomo che ha fatto di uno scantinato un patrimonio unesco. Di Marconi non si finirebbe più di parlare, quindi di Marconi, se volete vi racconto il primo vagito di Marconi. Quando la NURS consegna il bimbo alla mamma a Enni, siamo in via di fronte alla prefettura di Bologna, lì è nato Marconi nel 1874, dice alla NURS, la NURS ha l'ardire di dire alla mamma, ecco il bimbo, ha due orecchie un po' grandicelle questo bimbo. E la mamma guarda la NURS, un po' sorpresa di questa sottolineatura, guarda il suo bimbo e dice, beh, vorrà dire che con queste orecchie riuscirà a sentire il rumore del silenzio. Una sorta di preveggenza, di premonizione. Marconi infatti riuscirà non a sentire, ma a vedere con gli occhi, ma forse a sentire, a immaginare con la testa quel nulla che era l'onda radio. Grazie a questa scoperta, Marconi sfrutta un'energia invisibile e inventa la telegrafia senza fili. Non contento, continua la sua sperimentazione e agli inizi del Novecento pensa di appoggiare sulle onde radio la voce. Sono lieto di poter riavocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'oceano atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti i licenziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, Guglielmo Marconi. Negli stessi anni in cui Marconi cercava il modo di trasmettere un messaggio a migliaia di chilometri di distanza, un giovane americano, Thomas Edison, inventava il fonografo, uno strumento capace di catturare la voce e conservarla nel tempo. In mio figlio non credette mai nessuno, ricordo ancora con quale sofferenza lessi la lettera che mi inviarono i suoi primi insegnanti. Vostro figlio ha problemi di apprendimento a causa di un ritardo mentale, c'era scritto. È un problema per gli altri alunni e non può più restare nella nostra scuola. Aveva dieci anni, non potevo raccontargli la verità. Gli disse allora che per i maestri è un genio e che quella scuola non era più adatta a lui. Grazie ai suoi mille brevetti, ora però sono certa che nessuno più dimenticherà il nome del mio piccolo genio. Il giovane ottone Edison nel 1878 si rivolge alla nonna e dice alla nonna «Nonna parla, parla forte nonna per favore, più forte ancora nonna, perché sai e sto sperimentando una macchina con cui devo catturare la tua voce, conservarla ed ascoltarla anche quando tu non ci sarai più». Sapete cosa dice la nonna? Non farmi arrabbiare, non dire delle cretinate, delle semenze. Sentite cari radioascoltatori, appoggio il chiodo, il chiodo si mette a vibrare, fa vibrare il diaframma, la vibrazione viene amplificata da questa tromba a pipistrello ed ecco qua il risultato dopo 120-130 anni. Qui abbiamo un angolo dedicato ai fratelli Ducati, dove motociclette non ci sono, ma ci sono radioricevitori bellissimi, fatti a uovo. Pensate, amici, si diceva a Bologna a fine anni prima della guerra che non ci fosse nessun cittadino bolognese che non avesse o un parente o un amico impiegato alla Ducati, tant'è che la Ducati, pensate, aveva migliaia e migliaia di dipendenti prima della guerra. Tra gli operai dell'azienda c'era anche Nilla Pizzi, detta la canterina della Ducati, che nel 1951 vinse la prima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Grazie dei Fiori. Ci racconti come la Ducati è passata dalle radio alle moto? Ah, questa è una bella domanda, anche molto triste, quindi è una domanda molto bella perché non possiamo solo ridere, possiamo dare anche delle informazioni abbastanza toste. La Ducati passa dall'elettronica, alla meccanica in un modo un po' tragico, purtroppo, perché durante la guerra la Ducati elettronica, diremmo oggi che costruiva queste cose, non le motociclette, diventa in me industria bellica, viene requisita dai tedeschi e qui mi viene un po' il groppo alla gola perché io l'ho vissuta in prima persona. Questo racconto ho raccontato da Bruno Ducati, che è stato l'ultimo a morire dei fratelli Ducati alla fine del Novecento, già avanti con gli anni, che me lo raccontava piangendo. Sono Aldo Farinelli, avvocato, giornalista, ingegnere o semplicemente un amante dei motori. Il mio incontro con i fratelli Ducati avvenne un po' per caso. Avevo appena brevettato un piccolo motorino di appena 48 centimetri cubici, il famoso cucciolo, che messo al centro di una bicicletta legato alla catena permetteva di viaggiare a velocità folli. A Torino, dove lavoravo, quell'idea non sembrava però interessare a nessuno. Fu Bruno Ducati a venire da me. Mi disse che aveva un buon numero di clienti, sì, certo, loro compravano radio, ma era sicuro che sarebbero stati conquistati anche da quelle strane biciclette meccaniche. Così acquistarono il mio brevetto e rivoluzionarono la loro azienda a tal punto che oggi nessuno più neanche ricorda cosa c'era prima dei motori. La radio di Marconi, il fonografo di Edison, i computer di Steve Jobs, i jukebox, nel museo mille voci e mille suoni ci sono oggetti per tutti i gusti, ma l'unico vero protagonista rimane lui, Gianni Pelagalli. Non potevamo quindi che chiudere questa puntata salutandoci proprio come ha deciso di salutarci lui. Ecco qua, salgo su una pedana, guardo le due nostre bellissime, vi dico che sono due carinissime ragazze, peccato che non ci sia la televisione, poi stanno sorridendo. Ebbene, dedichiamo a loro e a voi tutti un finale spumeggiante. Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Volete sapere dove andremo la prossima volta? Seguiteci su In Cronaca.